buongiorno a tutte oggi vi presento questo intreccio particolare che io chiamo intreccio ad onde perché crea questo effetto di movimento molto bello è un intreccio che si può fare a due tessitori o a tre con i passaggi fotografici successivi spero di potervelo illustrare grazie a tutti 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 grazie a tutti